Buon compleanno Traiettoria. 30 anni in cui è stato presentato al pubblico italiano un panorama internazionale della creazione musicale contemporanea. Chi l'avrebbe mai detto 30 anni fa che il festival si sarebbe sviluppato in questo modo? Complimenti Martino, complimenti tantissimi, oltre alla stima e all'ammigrazione che ho per te come compositore, complimenti per aver saputo immaginare, progettare e condurre un festival di questo genere che ormai nel panorama della musica europea è diventato un festival storico. Felicitazioni anche alle tue collaboratrici, ai tuoi collaboratori che con dedizione, simpatia e professionalità hanno saputo gestire la logistica complessa e difficile di un festival di questo genere. Buon compleanno Traiettoria e ai prossimi trent'anni. Grazie. Grazie.